Sto parlando con il micro, spento? Qui no Vabbè Come vedete, ora Devo usare un po' il rome Ok Ho copiato anche di qua Alleluia Alleluia O Y twee Cattado Nogi Bey Nogi Bey Wow Noggy Bey La bella. Eh, siamo su. Adesso però è finito. Yeah, avete capito tutto. Questo stage a volte mi dà problemi, potete... è facilissimo invece. Allora, queste cose non entrava mai tutto, quindi non siete mai in pericolo. Ecco, è questo che volevo evitare. Sbagliando io, voglio cercare di aggrapparmi alla cota, ma salto troppo basso. Oh, no. come si dovrebbe, non esattamente perché dovrebbe andare su di lì, però non c'è voglia di farlo così questo è decimo più storia, mamma mia niente ultimo Oggi toccheremo 50, yeee non c'è 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 Non riesco a giocare oggi, ok? Ok, no, non ti può guardare ove? Oh, lo penso. un'altra non so scoprire cosa accade te vedi ahah ecchia è in giro ah ma poi Ok, me la cascata come l'altra ruta. Olè, va bene, una volta. Non è più veloci soli che abbiamo preso, però vabbè. Fatto, no? Ascoltate la musica, ma non è rilassante. No, troppo solido. Oggi il tempo è un po' stupido. Prima piove, poi c'è il sole, poi c'è il nuvolo, poi c'è il giorno del sole. Boh, non lo capisco. Capisco invece il mio gatto che è l'ora. Quindi, si fa interessante, adesso cambiamo. Adesso andiamo in un'altra posta. Che cacchio è? Ouch. Oh, andiamo stupido. Ehm, sì, c'è l'altro posto. Pianta village. Pianta village. Che... Villaggio del Palme, sì. Pianta village, planta village. Plant village. Ecco il plant village. Allora, in realtà la coda dobbiamo mettono il vento nella fare il barretto. Allora, in realtà là, in realtà, la coda è una coda. Vieni in un'altra scorus. Fai la coda è un'altra scola. Non, 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 è una scola. Non, non, è una scola. Vieni in un'altra scola! Non, 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 è una scola. Vieni in un'altra scola! OUCHE! tipo scopasso il cane no, è scopasso il cane ok, adesso c'è vabbè, i cani e l'incone il giorgeno è il mio gatto è il mio gatto è la che dorme no, non sta dormendo non so cosa di facerlo che è? ah vai sono quelli del piano diciamo quelli del piano no vabbè ho un momento per farvi vedere che si può salire senza non 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 senti eh allora torno subito ok ok, quanto pare c'era fatta eh no, perché l'ho fatto così poi tutti crederanno che asco no vabbè, entriamo l'ultima di oggi l'ultima di oggi l'ultima di oggi si si, si, ok fino a là 2 7 avete visto? scatto 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 ecco sto tizio vabbè ce l'abbiamo fatta come sto bene 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 sei ben quitta perché ho finito questo episodio Arrivederci